...è tra virgolette il nostro dono, che è importantissimo, soprattutto in questo momento, in quanto il centro trasfusionale di Udine ce li chiede dei gruppi razzi, quindi 0 negativo, 1 negativo, 2 negativo servono in questo momento. Ma soprattutto sarà importante nel periodo estivo di andare a donare, perché questo è il periodo più critico per la donazione. Quindi invito tutti i donatori, anche chi non ha invece mai donato, ma di avvicinarsi alla nostra situazione, in quanto questo periodo è importantissimo. Io ringrazio ancora l'Udinesia Calcio e la famiglia Porto per questa grande futura che ci dà ogni anno. Grazie, ancora un applauso, ancora un applauso a questa splendida realtà, oggi rappresentata da Roberto Flora, vicepresidente delle associazioni di Fulana, donatori di sangue e complimenti anche per tutto quello che fate. Sara, parlando di iniziative legate ai tifosi, 19esima puntata, Siamo arrivati praticamente alla conclusione di casa Udinesia. Come sei stato? Questa volta sono andato a Fagania. E lui? Che lo traccia bene, hai mangiato? Sì, abbastanza. Sì, abbastanza.